Se uso la ulti sul robottone va più veloce E dobbiamo provarlo adesso Ok raga, sta per nascere il bot Vediamo qui se riusciamo, vai 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 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Un saluto da Gigi e dagli siamo qui ritornati su Brawl Stars In compagnia della mia ragazza Serena Salve Quest'oggi volevo mettere a confronto Comunque far sfidare 8bit E la signorina Maxine Il nuovo brawler Comunque si c'è Barte che dona mentre registro Perché io sto registrando mentre sono in live su Twitch Io vi ricordo ragazzi Stanno donando tutti adesso che sto registrando ragazzi su Twitch Mi raccomando link in descrizione per venirmi a seguire in live su Twitch Tra l'altro anche questa sera probabilmente andremo a giocare tutti insieme su Brawl Stars Quindi fondamentale venitemi a seguire Detto questo ragazzi il nuovo brawler Maxine come vi stavo dicendo Secondo me è completamente l'opposto di 8bit Perché? Perché è veloce ma toglie poco Mentre 8bit toglie un botto ma è lento Quindi fondamentalmente è appunto l'opposto Anche le super c'è appunto Maxine che velocizza tutti i tuoi compagni Mentre 8bit potenzia e quindi fa ancora più danno con tutti i tuoi compagni grazie alla torretta Quindi regà Andrea andiamo con Arrafo a gemme Iniziamo facciamo un po' tutte le modalità Maxine la utilizzerà ragazzi serena perché io l'ho maxata come avete visto già nei video di ieri Ragazzi se avete visto i video di ieri dove siamo andati a maxare Maxine mi raccomando andatevelo a vedere E se vorreste dare un altro episodio dove invece magari mettiamo a confronto Bea e Piper Magari potrebbe essere Piper L'opposto comunque Quella che si lotta al posto con Con B Non lo so ragazzi fatemelo sapere E soprattutto ripeto recuperatevi i video di questi giorni sia su B Che su Maxine perché sto pubblicando un botto di video su questo aggiornamento natalizio con tutti i nuovi brawler Ovviamente veniteci a seguire su... Che è successo amore? Niente mi stavi per uccidere Ah eh? La senti la potenza di 8 bit Eh raga sto dicendo... Una rosa dove è andata? Signora rosa bot dove va? Eh sì hai una rosa che sta uscendo di brutto E raga fondamentale invece veniteci a seguire anche su Instagram Questi qui sono i nostri profili incredibili raga mi raccomando fondamentale anche lì Allora anche perché ragazzi faremo dei contest aperti a tutti Di cui ve ne parlerò meglio appunto su Instagram per vincere le skin e gemme Quindi raga vengono essere su Instagram Ok allora se i miei non fanno troppo i polli Uh guarda 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 Serena con Maxine quanto... Quanto è cattiva Ah mi metto una toretta Non è vero No non è vero Non sei cattivissima con Maxine No no Eh niente Io ho una Shelly cattivissima qui ma... Eh niente Ci sono morto No 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 Shelly no Shelly no Non farti fregare Shelly Muoviti Shelly No No Sì No è malarosa È malarosa È malarosa È malarosa È malarosa È malarosa È stupida Ok Serena che blasta i propri bot Attenzione che qui comunque non è ancora detta l'ultima Ok Tara ci poteva dar fastidio La prima è andata La prima se la giudica 8 bit signori Ovviamente sono delle partite così tanto per divertirci Ma per mettere appunto a confronto questi due brawler tanto simili quanto diversi Vabbè sì scegliamo anche una mappa a casa di rapina Io continuo a giocare con la mia abilità stellare della torretta più grossa Anche perché vita extra in queste modalità penso sia inutile Quindi No Torretta è più grossa Torretta è più grossa Ma no Non so se hai visto Ce l'hai anche tu 8 bit Eh sì No regà sono Sono triggerato da morire Cioè questa partita deve essere La chat ti fanno sapere che il migliore è stato il bot Il migliore è stato il bot Ma giusto così Giusto così Sicuramente Shelly è stata la migliore Ma a parte quello Io sono triggeratissimo per questa sfida Perché non vale che anche tu hai un 8 bit Che mi rappresenta Questa cosa Mannaggia la miseria Eh comunque noi non riusciamo Se i miei non si svegliano non riusciremo mai a venervi a pushare Dicono che è stata Penny non c'è Ah Penny ok Vabbè col mortaio Niente raga non riusciamo a A uscire da questa situazione Molto male Riusciamo a difendere bene o male ma non riusciamo ad attaccare Tutto merito del tuo 8 bit ovviamente Ah certo non mio eh No non tuo non tuo assolutamente Del tuo 8 bit che tra l'altro sto vedendo muore di continuo Ma mai come il mio bombardino Davide però anche il vostro intelligente ha usato l'abilità stellare giusta E niente raga Partita Penso la partita di rapina più noiosa che abbia mai visto vi giuro La partita di rapina più noiosa che abbia mai visto Cioè i miei stanno qui fermi ma che state a fa' Ma che stanno facendo i miei bot ragazzi No raga no raga no raga C'è assurdi ma che stanno a fa' i bot Questa sarà una sconfitta schiacciante ragazzi Questa sarà palesemente una sconfitta schiacciante Io c'ho i bot che non stanno a fa' niente raga Pure i tuoi Ma i tuoi stanno camperati in un cespuglio Beh i bot Sì sto pushando solo Sì sì i bot più stupidi che abbia mai visto proprio Sia da una parte che dall'altra Poi io sono lentissimo Non ce la faccio proprio a venire a pushare Eh non ce la faccio ragazzi Cioè da solo con 8 bit non ce la faccio Mannaggia Abbiamo appurato che quando si hanno i compagni scarsi 8 bit è inutilizzabile Dai su proviamo ad attaccare Dai fate qualcosa please Ma che usi la ulti qui che non c'era nessuno Ma non c'era nessuno Non ci voglio credere Niente L'unico danno che siamo riusciti a fare sono io adesso così completamente a caso raga Che tristezza Veramente la partita di rapina più brutta Che io abbia mai visto Oh che carino 8 bit che cammina veloce per la mia Ah è vero È vero non abbiamo visto il tuo 8 bit No peccato peccato Madonna 8 bit che cammina veloce con Con la ulti di Di Maxime tanta roba Allora Detto ciò andiamo in ricercati Andiamo in ricercati E diremmo di farci prateria dei serpenti proprio Cioè Non ci Non ci entra niente Non ci entra assolutamente niente con i brawler che stiamo utilizzando Ma direi Di farci la nostra mappa preferita Ok Oh questa volta Io non ho Maxime Ma neanche tu hai 8 bit Quindi possiamo fare una sfida Legit Ok Ci siamo uccisi a vicenda Ho visto Ho visto Io sono stato ucciso dal pocio Anzi Sì ho visto che siete un po' ammazzati tutti quanti lì Signorina Hems Lei che sta facendo? Non lo so Sta lì Ferma Eccola No no dai Non ci credo Dai pocio Ma che stai a fare Che sei one shot Ok No pensavo ci fosse ancora qualcuno Lì invece è morta Ok Pocio mio però Pocio mio Pocio mio Niente il Barry Il pusha Fermo però Pusha e poi si ferma Dai 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 No Non ci credo C'è l'unico che è morto È stato il nostro Mamma mia Mamma mia Mamma mia No peccato Peccato Che laserata regà Qua con la torretta Eh vabbè Chi c'ha? Ah no c'ha quello che la cura Nita c'ha l'abilità stellare che la ricura Ok E niente Con sto cavolo di orsacchio proprio eh No 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 Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Mi ha ucciso dall'orsacchio Mi ha ucciso dall'orsacchio Dai Pocio Ma non puoi pushare l'hams così E niente E niente Io c'ho i Poci che si vanno a infrangere contro l'hams Va bene così No Suicidio praticamente Sì no Guarda 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 il Pocio Sta fermo contro l'orsacchio Cioè non ci credo Cioè migliore in campo di sta partita L'orso Neanche Nita Perché Nita non sta a fa niente Non capisco neanche come faccia a ricaricare l'orso Forse si è ricaricata al primo E gli altri li ha ricaricati tutti con Con l'altro orso che li chiamava No Addirittura Amps Migliore Vabbè Ok a posto ragazzi Perfetto Detto ciò 2 a 1 per appunto Maxine Ce ne andiamo dunque In footbrawl Prendiamo una mappa a caso Va bene questa Ok E vediamo in footbrawl un attimino Invece quello che succede E vedo un altro pareccio Come è stato per la sfida con i bond Dici Sì Eh ma Io qua Ok che siamo in footbrawl Che è la mia modalità Ma Ho un brawler che non ho mai utilizzato In footbrawl Eh E ci mancherebbe 8 bit in footbrawl Che penso non si possa vedere Allora Eh beh Per quanto è lento Per cui Eh lo so però Però tu con Maxine Almeno sei rapida Te prendi la palla Va in porta Mannaggia Ok almeno ho fatto fuori la palla Se No non ci credo il Brock Non ti ha preso mezza volta Non ti ha preso mezza volta il Brock Non ci credo Non ci voglio credere Ragazzi 8 bit Quando hai dei compagni scarsi È inutilizzabile Cioè tu almeno Per lo meno Piotti Guarda non ti push Every one shot Non ti ha pushato Niente Niente Tiriamo la palla a caso Va bene Anche Pam Tira la palla a caso Tranquillo No appunto No i tuoi I tuoi dicevo Oh Sì ma Ma sì Palesemente un 2 a 0 Ma proprio Easy Proprio easy Vabbè A parte che Maxine Ci sta un botto Su footbrawl Ma poi io ripeto Cioè sto facendo una fatica enorme A giocare con Il cavolo di 8 bit Su Con i bot Regà È ingiocabile 8 bit Con i bot Beh non è che la mia sia facile Con i bot No però almeno tu Capito corri Gli puoi scappare dai bot Li puoi ripusciare quando vuoi Io sto fermo lì impalato a sparare Cioè non riesco a fare niente Guardali No non ci credo Si erano bloccati Che stanno fa E perché i miei no Pure i tuoi si erano bloccati lì Capirà In fila per di più Oppure questo Qua proprio Ci stracci peggio che Che su footbrawl proprio Non credo Ok È più danno tu Eh lo so Però I bulloni Ve li dovreste prendere Tutti voi Niente Guarda la Piper Che spacca qui Non ci credo Piper che spacca qui È stata fantastica Che poi erate tutti morti Non ho neanche capito Perché Signori Dove state andando Signori bot Mannaggia La miseria Eh niente L'hate già smaciullato Era valente lento No Piper Dove vai Piper Piper ha fatto un botto di danno Però Lasciamlo andare LOL Signori Che state facendo Camperati in base Oh Tare ha fatto Un Ha fatto Un grab assurdo Dai mi sono fatto Quattro partite Con dei bot Ritardati I miei Stanno fermi in base Oh sveglia Però questa volta Ma Ma ha premiato il gioco Questa volta Ma ha premiato Con una tara sveglia Guarda La lascelle Come sta ferma Aia 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 Dobbiamo chiuderla qui Ragazzi Dobbiamo chiuderla qui Ma non credo mai Ce la riusciremo a fare Dobbiamo chiuderla Dai Dai Sì Almeno un'altra Ragà Però 3 a 2 Comunque per Maxine Con un netto 2 a 0 Su footbrawl Quindi assurdo Fateci sapere sotto I commenti Quali tra i due brawler Preferire Ovviamente le comp erano fatte a casa Abbiamo giocato con i bot Quindi non è che potevamo Decidere qui Chi preferire Io probabilmente ragazzi Ma ancora devo provarla In realtà Maxine Probabilmente preferisco Maxine Perché è ottima in footbrawl Ed è la mia modalità preferita Ti fanno una bella domanda Dalla chat Eh Se uso la ulti Sul Robottone Va più veloce E dobbiamo provarlo adesso Ok raga Sta per nascere il bot Vediamo qui se riusciamo Vai 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 subito No No Non mi sembra Abbia fatto nessun Upgrade Sì Anche a me è sembrato Sempre uguale È sembrato sempre uguale Raga Non è Non è cambiato niente Quindi Non funziona Tra l'altro Non so se ricordo male Ma anche la torretta di 8 bit Non Non potenzia il robottone Quindi comunque i robottoni È come se Avessero quelle statistiche Quelle sono in ogni caso Non possono essere Né potenziati Né niente Raga vabbè comunque Concludendo qui la partita Che chi se ne frega Era giusto per vedere questa cosa Spero che il video Sia piaciuto Fateci sapere sotto nei commenti Chi preferite tra 8 bit E Maxine Ovviamente Fateci sapere con un bel mi piace Arriviamo almeno a 15.000 like Se vorreste anche Il video di Piper Contro B Potrebbe essere interessante Anche quello Sinisconnessione per inattività Va bene Ok Veniteci a seguire Su tutti i nostri social In particolare Instagram Trovate tutto in descrizione Ma anche su Twitch Perché come dicevo Questa live Questo video Lo sto registrando in live Appunto su Twitch E questa sera Verso le 20 e 30 circa Probabilmente ci troviamo Appunto in live qui su Twitch Per giocare insieme a Brawl Stars Ciao ragazzi Per giocare insieme a Brawl Stars E questa è la mia Per giocare insieme a Brawl Stars